L'Italia dei Valori si presenta col proprio simbolo, le elezioni europee non prevedono alleanze e quindi in questo senso non ci saranno. Certamente stiamo dialogando con la società civile, con le tante associazioni che ci daranno una mano e saranno presenti anche con i loro rappresentanti all'interno della nostra lista.